Hanno a cifra tonda il settantesimo per la mostra e il più longevo festival del cinema del mondo. Venezia ha fatto una preapertura d'eccezione quest'anno proiettando il film Restaurato, Le mani sulla città di Francesco Rosi e questa sera l'inizio ufficiale con il grande spettacolo hollywoodiano di Gravity. Il programma quest'anno è molto vario e articolato. Presentiamo grandi pellicole di Hollywood come il film di apertura che è una storia molto forte, ma abbiamo anche alcune delle più radicali forme di espressione dell'arte cinematografica e in mezzo c'è di tutto. Ad aprire dunque questa sera la superproduzione di Alfonso Cuaron con Sandra Bullock e George Clooney, astronauti alla deriva nello spazio. No! What do I do? What do I do? No, 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 no! No, no. No, no.